È stato definito dal giudice un soggetto ad alta pericolosità sociale. Si legge anche nell'ordinanza di custodia e messa su richiesta del sostituto procuratore Eligio Paolini. Agli arresti è finito un quarantenne pisano che adescava bambini dai 13 ai 16 anni online, utilizzando Facebook, Whatsapp e Ask. Regali in cambio di incontri omosessuali. Pagava decine di euro promettendo ai minori motorini, telefonini, ricariche o capi fermati. L'uomo era già stato fermato nel 2008, arrestato per ben tre volte perché colto in fragranza di reato. Lui che in passato aveva avuto quotidianamente a che fare con i ragazzi perché è ex autista di scuola bus. Su di lui pendono 12 episodi ma la polizia crede che possa essere l'autore di altri 8 casi di abusi. Oggi è accusato di violenza sessuale, adescamento, prostituzione minorile e minacce. Sì perché l'adescatore aveva iniziato a telefonare ad una ragazzina che aveva la colpa, si fa per dire, di essere la fidanzata di uno dei ragazzini con il quale l'uomo aveva avuto rapporti fisici e il suo preferito. I genitori della ragazza lo hanno denunciato così come una delle mamme dei minori abusati dopo aver letto alcuni messaggi sul telefonino che l'uomo mandava al figlio. Gli agenti di polizia invitano i genitori a controllare le attività dei propri figli sui social network dove oggi, sempre più spesso, si annidano insidie e pericoli.